Francesco Moser Creare molto scalpore. Sappiamo ormai molto bene che l'Argentina ha deciso di iniziare la sua storia con Ignazio, dopo aver chiuso una relazione di ben quattro anni. Cicilia ha, infatti, lasciato Francesco Monte in diretta tv. Questa scelta è stata presa molto male dal pubblico. Tutti questi gossi potrebbero, però, infastidire Francesco Moser. Il noto ciclista, da sempre, non ama stare sotto i riflettori. Negli anni, il padre di Ignazio, ha preferito la riservatezza. Eppure, il giovane ha scelto di prendere parte ad un noto reality, attraverso il quale è finito, anche nel mondo del gossip. Moser ammette di non voler vedere il figlio continuare questa strada, poiché molto difficile. Ignazio, addetta di Francesco, dovrebbe tornare a lavorare nel settore, vendite e riprendere la sua carriera ciclistica. Nel frattempo, durante l'intervista su Gazzetta dello Sport, il ciclista si ritrova, anche a rilasciare una dichiarazione sulla storia nata tra Ignazio e Cicilia. Virgola, Ignazio e Cicilia Rodríguez. La storia viene commentata da Francesco Moser, di ragazze ne ha avute più di una, non possiamo pensare a tutte. Chiuse virgolette questa è la risposta di Francesco Moser, quando gli viene chiesto di parlare di quanto sta accadendo tra Ignazio e Cicilia. Il noto ciclista ha scelto di restare sulle sue, e di non esagerare con le dichiarazioni. Le sue parole potrebbero essere interpretate in diverso modo. Sicuramente non appare molto convinto di questa relazione. Forse il fatto che sia nata all'interno del reality non dà molte sicurezze a Francesco Moser. Nel frattempo, il ciclista parla, anche in generale, della partecipazione del figlio al programma. È stata una scelta sua, ha 25 anni, è grande, non potevamo mica vietarglielo. Finché è lì dentro bene, poi però vedremo le conseguenze. Virgola Ignazio e Cicilia Rodriguez. Francesco Moser non è. Convinto di questa storia, la storia di Ignazio e Cicilia, forse, non sarebbe riuscita a creare molto scompiglio nella vita di Francesco. Quest'ultimo ha scelto di non dare soddisfazioni, e di restare sulle sue. Intanto, la Rodriguez continua a parlare della sua felicità dopo aver lasciato Francesco Monte. Grazie.